Quando si segue un sogno bisogna essere disposti a sacrificare tutto. La famiglia anche del calciatore deve essere pronta a sostenere il ragazzo che parte in età giovane per andare a inseguire il proprio sogno. Non è facile, ci sono tante avversità. Sono cambiati un po' i tempi, adesso i ragazzi hanno più comodità, hanno più distrazioni, sono mancati forse alcuni esempi al fianco per cercare di trovare forza, trovare energia. Però alla fine il calciatore se vuole arrivare a diventare grande deve abbandonare ogni comodità, far leva solo sulla sua forza d'animo, sul suo credo e sulla sua fiducia per cercare di raggiungere i propri sogni. I social media hanno cambiato letteralmente il rapporto tra i protagonisti e il pubblico. Hanno zerato le distanze, hanno creato più contatto, sicuramente il protagonista può mostrarsi in alcuni lati sconosciuti, insoliti, può mostrare e confidare qualche aspetto della sua vita privata e questo è un bene. A patto che si cerchi sempre di tenere comunque un po' di riservatezza e mantenere anche salde le relazioni più personali perché è giusto comunque mantenere un po' di privato in un mondo così pubblico e così di tutti.